Rieccoci, allora, allora, Silvia Sardone, buonasera, buonasera, buonasera Silvia Sardone, allora è al centro ovviamente di un caso politico, lei perché... No, preferiva fare l'assessore ovviamente, su questo non ci piove, però... Mi sarebbe bastato, insomma, non avere... Tutto questo... Stai da vent'anni e ti chiude la porta in faccia, ma che avremmo bisogno di... Quello che è capitato a me capita quotidianamente, oramai, in una fase di partito che crolla a moltissimi amministratori locali, consiglieri regionali di diverse regioni, presidenti di provincia, cioè non è tanto quello che è capitato a me, è, diciamo, il metodo che sta portando avanti il mio partito. Perché lei dice, aspettate che non so cosa sta succedendo, cosa sta succedendo? E allora cambia... Non va bene il micro... Facciamolo in diretta, se io non... Se no, se non si sente, è inutile che stiamo qui, giusto? Per cui mi sembra corretto e coerente farlo. Adesso siamo a posto. Grazie a Silvio Valsecchi, grazie davvero. Grazie. Mimmo dalla regia dice che tutto ok? Sì, Mimmo dalla regia dice... Giusto? Sì? Perché se mi dice Mimmo... Allora io faccio una cosa, visto che tu ti stai sistemando, lei si sta sistemando il microfono, io mi siedo qui. Allora, la questione, lei ha detto, è un partito che sta crollando. L'ha detto adesso a me? Cioè, non è che l'ha detto. Beh, non è che lo dico io, non è che si sveglia a sardone. Lo dicono i dati delle ultime elezioni e le dicono i sondaggi che sono persino peggio dei dati delle ultime elezioni. Quindi, cioè, io sono entrata in un partito che aveva il 30%, adesso insomma è un terzo dei voti di quando sono entrata. Insomma, quindi oggettivamente è un partito che negli ultimi anni ha costantemente ridotto i consensi. Questo al di là del metodo o è il metodo secondo lei che porta a questo tipo di scadimento? C'è anche il metodo. Certo che se tu hai la gente che ti porta consenso e in generale hai un elettorato che ti chiede determinate persone, tu quelle persone le massacri in favore magari di altre che non hanno le stesse caratteristiche o anche le massacri e basta, è normale che probabilmente non è che proprio il giorno dopo questi elettori ritornano a darti fiducia. Una volta, la seconda, dicono magari guardiamoci attorno. Non è un caso che altri partiti come per esempio la Lega abbiano candidato praticamente tutti gli amministratori, molti degli amministratori che avevano sindaci eccetera. Non è un caso che guardando l'età media dei parlamentari, quella di Forza Italia sia l'età media più alta ed è anche il partito che ha rinnovato meno degli altri insieme all'EU. Che però non c'era per cui è difficile che rinnovasse più di tanto. No, no, era una battuta per stessi. Come parlamentari nuovi e rispettivi. Che non erano comunque a Palazzo Madame, certo, certo. Dipendentemente dal partito. Allora, diciamo che... C'è qualcosa che non troppo. Qualche riflessione la possiamo fare, dopodiché io e tanti altri andiamo sui territori, prendiamo consenso. Io ho avuto un consenso, ti devo dire, inaspettato. Se tu mi avessi detto prima del voto, Siva, ti aspetti di prendere 11.312 preferenze, ti avrei detto no. È anche un consenso che ti responsabilizzano. Nel senso che io quando vado in giro, devo dire a sta gente che mi ha votata che poi il mio partito non è che ha messo una persona al mio posto, che ci stava, una persona migliore di me. Va benissimo. Non è andata così. Ah, persino rinunciato da un senso lato pur di non mettermi. Allora, posso dire che questa cosa è inconcepibile, senza darmi nessuna ragione, senza avvisarmi. L'ho saputo dalla segreteria del presidente Fontana, senza darmi un avviso. Io ero già vestita, stavo andando lì per la conferenza stampa, cioè giusto per intendere. Cioè è successo questo? Sì, sì. Realmente? Cioè fino a cinque minuti prima di uscire di casa, lei era convinta di andare lì e di fare la foto di Rito. Ti dico di più. Il vestito che ho addosso è quello che ho comprato per la foto di Rito. Un tubino blu, un po' più moderno del normale, insomma comunque era quello che avrei utilizzato. Quindi io ero lì, iniziavo sistemando, dopo un'ora e mezza sono stata la conferenza stampa, il mio coordinatore regionale però non mi rispondeva al telefono, al che ho iniziato a pensare un po'. Un po' di sospetti sono arrivati. Un po' di telefonate varie e alla fine un'ora e mezza prima della proclamazione ho avuto la telefonata da parte di una persona della segreteria del presidente Fontana che mi ha detto guarda Silvia mi dispiace se stai venendo qua non venire, mi ha detto ti hai chiamato qualcuno? E io ho detto no, ti volevo dire che non venire perché non sei in giunta e... Beh quantomeno si aspettava una telefonata da qualcun altro, no? No, quello penso proprio di sì. E però ci sono stati... Il tuo partito ha rinunciato ad un assessore. Ah, questo gliel'hanno detto loro. Loro. Al che io ho detto va bene tutto, cioè, ma fare taffazzi, adesso mi hanno dato, devo dire, non so che cosa avrei potuto fare diventando assessore, non so, scalare l'everse, non lo so, cioè mi hanno dato un... Tra l'altro è anche un ruolo impegnativo, insomma, nel quale uno deve lavorare tanto. Però sono arrivati tanti attestati di stima e si sono schierati in tanti in favore di Silvia Sardone dicendo non capisco neanch'io, uno è Toti, per dire quello più... Che ha fatto il post su Facebook forse più importante. Ho avuto anche tante persone che mi hanno dato messaggi in maniera privata, ho avuto tanti politici diciamo di caratura nazionale, quello che mi è stato sicuramente più vicino è Giovanni Toti. Per il modo che ha di interpretare la meritocrazia all'interno del partito, però, che... insomma, dei criteri meritocratici, dopodiché ho la cosa che mi ha più stupita di tutte e che, ti dico francamente, mi lascia impreparata. E che mi responsabilizza molto, però, è l'essere stata chiamata da altri consiglieri regionali di altri partiti, presidenti di provincia, sindaci, amministratori locali, gente che voleva... Ho saputo, poi, perché dai racconti che voleva correre alle regionali, magari nel loro collegio, alle regionali dove si prendono preferenze, diciamo la casa, non voleva andare al Parlamento nel posto bloccato, ma voleva correre ai regionali e gli hanno detto di no perché aveva i voti e sarebbe stato eletto. Addirittura. Allora, io lì mi sono detto, c'è qualcosa che non funziona. Lì non è la meritocrazia, però, qua c'è qualcosa di più della meritocrazia che non funziona, mi sa. C'è qualcosa che non funziona, perché se un partito addirittura non fa candidare la gente per paura che possa essere eletta e quindi, magari, calcolando che ne possano entrare tre, non far entrare il tuo amico e quindi fare la lista debole, è un problema per tutti quelli che tutti i giorni fanno un gazebo con quel partito, perché vuol dire che quel partito potenzialmente può arrivare ad una percentuale più alta e tu scientemente decidi di non avere gli elettori per mantenere il tuo potentato. E a me questa roba fa schifo, e fa schifo perché io sono quella che fa il gazebo, i weekend, perché io sono quella che ha costantemente il banchetto fuori dall'Esselunga, perché io sono quella che va a prendersi i voti dei cittadini che votano pensando di poter portare i cittadini. Sta sul territorio in quel modo lì, insomma. E mi fa schifo perché non sono sola, perché non sono solo io, perché dalle telefonate che ho ricevuto ho capito che c'è un elenco di persone così. E ci siamo anche domandati quale sarebbe stato il nostro futuro, cioè se ci fucilano direttamente in piazza? Ecco, allora per quanto riguarda il futuro, due cose brevemente che poi parliamo di tutto quello che sta succedendo anche a Roma ovviamente e facciamo entrare anche gli altri ospiti. Due cose, la prima, si è pentita di quella frase detta, credo martedì se non ricordo male, qui decidono i cortigiani di Arcore, perché io ho letto questa cosa, ribadisce. Ma è oggettivo, la telefonata... Perché è forte quella frase lì, eh. Eh vabbè... No, 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 le dico, le dico. Intanto, peggio di così cosa mi fai? No, ho capito, ho capito, Sardone, però non era... E quella lì è la frase, onestamente, almeno per come l'ho sentita io e letta io, è la frase più forte che ha detto in questa settimana. Ne ha dette tante, questa qui l'ho percepita molto forte. Ma devo dire che l'ho sempre detta, comunque però adesso magari... Sì, adesso forse l'abbiamo ascoltata tutti, prima no, forse anche quello c'ha ragione lei. Vuol dire, non sono mai stata una che è stata leggera nei toni, nei confronti, anzi, devo dire, lo ribadisce, nel senso che la telefonata che ha dato i nomi di chi doveva entrare o non entrare in giunta non è arrivata da Silvio Berlusconi a Fontana. Però io quando metto la X su Forza Italia scrivo... C'è scritto Berlusconi, certo, c'è scritto Berlusconi Presidente. Quindi rispetto a quelle determinate scelte... Le faccia... Le faccia lui, le faccia lui. L'ultima cosa, ieri se non ho capito male, se non ho sentito male l'intervista ha detto io Forza Italia non la lascio. Il suo futuro è ancora in Forza Italia oppure sta pensando davvero di fare un passo da un'altra parte? La sincerità che mi ha sempre contraddistinta è quella che insomma metterò in campo anche in questo momento. Io in questo momento sono un pugile che ha preso tante botte e che devo un attimino capire... Riassestarsi un attimo. Come stare a stare, non dico in piedi, ma quantomeno seduta. Questa cosa che mi sta capitando, cioè i tantissimi eletti che mi stanno chiamando, fanno sì che la scelta non sia solo mia, ma che sia probabilmente, ed è questo il tema che dovrebbe porsi il mio partito, di un'intera classe dirigente che si è stancata di questo tipo di partito. Quindi può darsi che si vada verso una scissione che non è la scissione di Silvia Sardone, ma che Silvia Sardone percepisce come una buona fetta di Forza Italia possa... Io parlo comunque per meno. Sì, però ha detto anche, ha chiamato tanti eletti, quindi lei percepisce che qua c'è una resa dei conti in Forza Italia. Siamo vicini. Più che altro diciamo che sembra che non è che siamo noi da andarci, c'è qualcuno che ci vuole cacciare, questa è la realtà. A quel punto se siamo così scomodi, dato che abbiamo preferenze e magari meriti sul territorio, ne prenderemo atto, no? Io per ora sono in Forza Italia. Va bene, grazie mille. Rimane con noi Silvia Sardone ovviamente per parlare di quello che è successo a Roma ieri, per parlare di quello che succederà a Roma la prossima settimana, perché qui ci sono anche tutte dinamiche nazionali che vanno, non che quella di Forza Italia legata a lei non sia nazionale, perché abbiamo capito che lo è, però qui c'è un governo da fare, da capire e quindi parliamo anche di questo. Tra poco pubblicità e torniamo.